Verso il salto di qualità, mentre prosegue il percorso della candidatura del Montegrappa a riserva della biosfera Mab-UNESCO, quando anche la Regione ha già dato il suo imprimatur, tutto è pronto. Il 29 ottobre la firma ufficiale del Sindaco di Bassano, il 15 dicembre la consegna della domanda all'UNESCO e a maggio 2021 la proclamazione ufficiale che riguarda un'area di 170.000 abitanti, 25 comuni, 3 province, Vicenza, Treviso, Belluno, due camere di commercio e una certa complessità organizzativa che include diverse aree. Il tema della conservazione del paesaggio, della biodiversità, il tema dello sviluppo sostenibile legato al mondo impresa e il tema dell'educazione rivolto alle scuole, al tema dell'istruzione, degli scambi informativi e dei giovani. Siamo feri di dire che nel 2020 siamo gli unici che sono riusciti a progredire nel lavoro nonostante il periodo di crisi da Covid. Siamo riusciti in modalità anche da remoto a svolgere importanti riunioni per definire il piano di lavoro e il piano della futura riserva Mabonesco e siamo l'unica candidatura che verrà presentata dall'Italia al Comitato Internazionale di Parigi. Non manca la progettualità. In vista del riconoscimento di maggio 2021, sono già ben 152 i progetti sul tavolo di lavoro che riguardano anche Bassano. Intendiamo valorizzare quei progetti che sono in corso, rivalorizzare il Parco Ragazzi 99, la progettualità rispetto anche al Parco Parolini ma anche, ad esempio, soprattutto tutta quella progettualità riguardante il percorso del Brenta e le attività necessarie per valorizzare il percorso, per procedere con i percorsi ciclopedonali.